Musica Benvenuti nel canale del Burnio Ho appena giocato una partita Un po' strana Perché io avevo la squadra quella più scarsa Diciamo quella da 2560 Contro il mio avversario Di cui vi lascio la formazione Adesso in sovrapposizione A questo mio video Eccola qua E vi faccio vedere i momenti salienti Comunque l'ho vinta Lui giocava strano Io credo che volessi prendermi per il culo Perché lui all'inizio non giocava Ehi Chris Ecco un Gino Ma sai che a me è successa una partita strana Sono andato a giocare in divisioni Con la mia squadra da 2550 E mi ha dato un avversario Che a tratti non giocava Sembrava quasi che mi prendesse per il culo Convinto di poter vincere la partita Perché aveva la squadra più forte Alla fine non l'ho vinta Oh ma delle robe stranissime Tipo vincevo 5 a 2 Poi lui ha messo tutti i giocatori in attacco I miei non si muovevano più Insomma alla fine l'ho vinta 5 a 4 Però non ho fatto Non stavo facendo il video della partita Solo gli highlights dei gol Perché robe strane Sembrava quasi che Non ci avesse voglia di giocare Ma io penso che tanti non sanno più voglia di giocare Io credo che A fine mese Quando esce fino a 23 Vedrai Ma si perché poi Tipo il primo gol me l'ha regalato Lui non ha fatto niente Io gli ho rubato la palla con Firmino E ho tirato segnato al 12 Però dopo lui era talmente Cioè lui si vedeva che sapeva giocare Infatti ogni volta che veniva su Erano dolori Cioè i miei Poi aveva la squadra anche più scarsa Però alla fine secondo me Ha sottovalutato troppo Mi ha sottovalutato troppo come avversario Perché ha visto la squadra più scarsa E ha fatto lo sborone Capito Tanto poi la riprendo Capito Come voleva fare Cioè anche se vado in svantaggio Tanto poi recupero E invece poi ho perso 5 a 4 Non lo so adesso vado a vedere anche Tu la segui la professorella Sta zoccolona Su Twitch Da lezioni Tipo La professorella si chiama Ah E chi è la zoccolona Lezione numero 20 Narcisista Come riconosciolo Sì è una bella donna Ah Quanti anni c'è Quarantanove Me coglioni Sì siamo ancora Sali Questa facendo il video Noi che parliamo No Ma sì che cazzo No vieni di togliere l'audio No lo lascio così Fa ridere Che cazzo te ne frega Della professorella Io sono peggio di te No ma perché qualcosa di nuovo Cioè nel senso di diverso Sì ma io ho visto che ci sono tanti Tipi su Twitch Che Cioè non fanno niente Cioè stanno Li fanno chatting Praticamente Sì sì E hanno tipo 8000 8000 iscritti 9000 Che cazzo è sta roba Sì Questa è già La lezione Ma comunque Tipo l'altra volta Ho parlato anche del Purtroppo di Di quelle switch del giorno d'oggi Della violenza sulle donne Cioè No va bene Se noi stavamo scherzando Però sì Ci sono alcune Che però lo fanno Perché è una Twitch comunque È una forma È una piattaforma Dove tanta gente La segue E poi per fare streaming All'infinito Puoi mettere Puoi mettere vari suoni O quello che vuoi È più libero di YouTube Puoi mettere la musica Tutte strade qua E Praticamente Con la professorella C'è Con la professorella Alla fine No ma alla fine Lui dopo gli ha dato rigore È stato 8 ore È stato tutto il tempo Ti giuro Tutto il tempo In pausa E quando è rientrato Ho manca dato due peri Come se non fosse niente Troppo taci Che sono riuscito A tenerla sul 5 a 4 L'ho vinta I miei ci sono Completamente rincoglioni È stato Ti giuro Tutto Io non so cosa ha fatto Comunque c'era lag Io ho visto che lagava Quindi secondo me Era una partita in PvP Impossibile Ci sono i server dedicati Ma dedicati No no E poi io ho preso anche il palo Tanto per cambiare A porta vuota Ci sono Le stanno rimettendo Le partite in PvP Cioè Secondo me Una partita Ormai Due partite su 5 Sono col server Gli altri 3 Sono in PvP Sì Non lo so Perché hanno rimesso il PvP Forse Non possono dire Che c'è tanta Pagente che gioca Perché chi cazzo è Che gioca A parte noi squilibrati Chi cazzo è Che gioca Chi cazzo ci gioca Sto il gioco Veramente No da mobile Sì tanti Tantissimi Oh ma io Una squadra assurda Da mobile Pure te Ma da ogni attraio Di fare Quella più fatica Allora avevo Maradona Mi è rimasto Maradona E Gerard No Come leggende In pratica Mi li davo oscurati Cioè io ho capito Il motivo Perché dovevo rinnovare I contratti Ah beh sì Ma te li hanno regalati Lì nel momento Del contratto Sì Ne ho circa 6 7 Non mi ricordo Comunque L'ho consumata Adesso possono giocare Io se avessi Un computer Come cazzo Dovrei fare Come Chris Sono a 4 partite giocate Mi manca una partita E posso passare in divisione 4 Perché va Travitare un paletto Travitare un paletto Lo fai qua nel video Ah sì Lo faccio adesso Giaco sempre con la mia squadra Giaco sempre con la mia squadra Da 2.565 Che ormai È rodata Questa squadra È rodata Ma ho giocato Un po' di partita Da online Con quel cazzo Di robo La famosa Seconda sfida Del worldwide Minchia Mi hanno fatto Diventare Coglione Con quella robo Comunque Di tutti quelli Che ho provato Kimmich è il più forte Di tutti Mamma mia Di solito Ce l'ho sempre Kimmich Quest'anno Non ce l'ho Però Non sento La mancanza Ah ma ti risolve Proprio un centrocampo Che io lo mettevo Non lo mettevo Mediano Comunque Io lo mettevo Centrocampista Centrale a destra Lo mettevo Cioè giocavo Con 4-3-3 E lui giocava A mezz'ara a destra L'avversario è pronto Ma come fa Non mi trova L'avversario Non so perché Ah perché Se la sta come ieri Me la sta apparecchiando Bene Chris Ma l'altro giorno Che non mi trova L'avversario Sta pensando A chi darmi Come la stanza Lui giocava Un 4-3-3 Come partita Promozione Seconda te Chi ha come punta Centrale Lui dai Allan 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 Cioè ormai tutti Solo io non lo uso Allan Perché quando lo uso Ma nemmeno nelle riserve Riserve mi porto 2 SP 2 SP o punta Che sarebbe Con cui Le au E poi Mbappé Perché un bappé Secondo me Rende più A partita in corso Io lancerò In panchina Ma a volte Mi dimentico Che diventano Ah mi hai dato Connessione Col traversario Non riuscita Ecco me ne manca una Per andare in divisione 4 Con la mia squadra Da 2565 Con il mio grande Tridente Cavani Bisca E E Rashford Madonna che attacco Roberto Firmino Sì no Roberto Eccolo qua L'ha trovato Tutti giocano sulle fasce Guarda 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 Ma perché il gioco Ti costringe Adesso A giocare sulle fasce Ma guarda Anemar Perché non me lo prende Scusa Ma occhio Non ti allungare Sta palla Che posi Comunque Anche questa La squadra più forte Della mia 2620 Vediamo Prima avevo anche tutti i due difensori Con la freccia giù Pensate Molto bene No Anche questo allea O meravigliato Questo mi sa che perdo Sì Goal Palo rete Dai Buona zero Dai 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 Domenic Quando lo insulto Ma Schema di gioco Vediamo No dai Meglio adatti buoni No non me lo fare Il kick off Dai che palla Lascio così Che palla Questo kick off Hai cross al centro Per Haaland Vai Ma che vuole fare questo Ma che vuole fare questo Ma che vuole fare questo Già questo tenta di superare Cancelo Ma Cancelo per me Dipende il terzino più completo del gioco Ho Cavani Ho Cavani Che app Allora no Cavani lo metto Aspetta Allora lo facciamo così Cavani lo mettiamo in punta Questo lo metto di là E lo faccio Esa No lo giochiamo anche No sulle facce Bravo E fermina di là Ah Direi che va bene così La sua squadra Mi sono dimenticato Vabbè Avrà robe Stratosferiche Vediamo Ah ma le gioca col 433 Bravo Bravo Neymar Allora Quagliate Allerghiamo No Che cazzo Ma anticipato Bravo È stato bravissimo Qua Perché Un anticipato Proprio All'ultimo Va bene Va bene Lui ha la squadra 2620 Quindi No 80 punti di più 70 Vai Messi Porca puttana Non è stato anticipato Di testa Messi Allegri Michael Jk Questo si chiama Chiudi 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 Che fa il cross Ma Quagliate Chiudete Porca miseria Come so scontato Gol Mi chiacchia No ma che questa Ola davanti Tutti Non c'è Uno Mi la rimparli Finalmente Calciodanno Non esco Più dall'aria Non era per questo È già fatto Lo troppo Però lui c'è il mio De Bruen Solo che lui è 95 Come fa? L'ha livellato meglio Io con la fretta Non livellata Ancora poi Non livellavo Come Eh vabbè D'anzio D'anzio Fai il serio L'unica pecca Di Magnane Che sta rimessa Non ha la traiettoria Bassa Nelle rimesse Capito? Mentre ha tirato Che cazzo ha fatto Dai Messi Ha sbagliato Ho sbagliato Di brutto Ho tirato Non volevo tirare Questo a vedere Questo a vedere Ma è che è andato Ha chiesto Dai E levati Stamani Di dosso Guarda che lag Mi ha fatto Dai però Ragazzi E se non pide Pide pili Come cazzo Si dice Pbp Vai Messi Che sei so Bravo Mi ha fatto Un intervento Bellissimo E dai Guarda che voglio Se da vodo E vabbè Uno due Che cazzo hai fatto Sei coglione Dai che sei andato Vai rumeniglie Dai E dalla Vai No Che cazzo ha parato Dai Messi Te ne vai a fanculo Messi Te ne vai a fanculo Mi fa sto favore Messi Messi Ora ti ti mando a fanculo Basta Mi ha finito A buon tempo 0 a 0 Che fa una fatica Mostruosa Io non le fa segnale Ma neanche lui Siamo a Un tiro lui Due io Mamma mia Che pagina Ma bene la sua squadra Non è che guardate Io sto giocando Oh Ve ne dovete andare a fanculo Messi Te ne devi andare a fanculo Lo sto odiando Sto coglione Adesso lo metto qua E alla vado Lo metto qui Eh Guarda L'avversario è bravo La partita equilibrata Magari forse Un pareggio Risultato più giusto Ma basta Oh basta Vattene a fanculo Messi Prova Non ti posso più vedere Cazzo sto facendo Sto cazzo Mi sono rotto Provo le scatole Ok Niente Per ora Parti assa Ho messo punta Mettilo punta Cristo santo Madonna mia Sto menu pure Che lento Ma anche a te Succede Sto menu lento Che fallaccio Come che ha fatto Roberto Ho munito Che spam Ho fatto E' finta Confermina Siamo ai cauti Soprano E qui Stanno a sudare Madonna Viglio Adesso Come si è messo Potremmo Mettere Alaba E niente Nemmeno una rimessa Con le mani Ragazzi Nemmeno una rimessa Con le mani Guarda Guarda lui Vai Dai Guarda il fuorigioco No Ho preso il palo interno Ho preso Puttana Ma guarda la merda Ma guarda che cazzo De fatica Ragazzi Ma non è possibile Oh E basta però Ma qua E' una cosa di sopravvivenza Non è più un gioco Forza Cioè Aspiriqueta Pi' veloce De legato Dai ragazzi Dai basta Dai basta Io non le posso Deve Queste cose Dai Aspiriqueta Pi' veloce Di legato Ma dove cazzo L'hai messo L'hai messo L'hai passato Il pallone Abbatti Forza Dove cazzo Sembra Pogba Pogba E' forma incostante Loro lo mettono Vabbè No ma dai Ma che gol di merda Ma che sparo Ma i miei Si sono fermati tutti Per farlo segnare Sto cazzo Di ho Di merda L'odio Sto cazzo Di giocatore Ma che sparo Ha tirato Ma un tiro Del cazzo Un tiro Del cazzo Dove i miei Vanno a voto Santo Dio Che sparo Ma mi ha fatto un cazzo Tutto il primo Secondo tempo Che sparo Guardate questo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma dai Non vedi che c'è un uomo Comunque sono a 4 di sera 12 punti Tagliamo La seconda 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 No no Bruttissimo Bruttissimo Dai Bruttissimo Non ci siamo Vabbè sul primo Sul primo palo La messa Mi mancano 4 punti Su 4 partite Per arrivare In terza divisione Ci riuscirò Non lo so Non c'era meno Niente Tanta promozione Su questa Ragazzi Cioè Se tanto Se pareggia Che delusione Messi Il cazzo Batto qua In destro Non c'ho manco Un kibate Fantozzi Batterei Che ne sono le mani In questa maniera Questo gioco Ma di che stiamo parlando Ragazzi Metto Tantè Che la freccia giù Ma li vado in culo Lo metto Anzi No dai Mettiamo Coscini E poi Niente Qua bisogna Fare di cambi Dobbiamo mettere Questa Al posto Dell'Arsper Che ha fatto Cagare Cavagna Al posto De finito E qua Metto Visca No ma la freccia giù Mettiamo Diaz E allora Batte Visca Odia O cosa C'è Un'altra partita Perché già Cioè Ma non è possibile Sto perdendo 1 a 0 Ha fatto 2-2 Cazzo Ma 2-2 Un tiro nel primo tempo Un tiro nel secondo Che cazzo Deciso Ma va a far cuore Ma no Mettini che batte Deciso E' come è ormai Deciso Sì L'1 a 1 Al 72esimo Chi è che ha segnato Scusate Segna E poi segnali Charlison Su Closti McKinney Punizione magistrale E non si fa perdere L'occasione Adesso stiamo calmi Che se riusciamo A fare il 2-1 Passiamo No Ora che mi sono salvato Giocherò un po' più sciolto Giocherò calmo Tranquillo Vediamo Poi manco ti fa vedere Ma dai Manco la Bersara Fa vedere Guarda che erano Poi Assurda Accimilano Tutti con il mio Non gioco Vediamo Ieri Guarda Guarda che si fallo Ma è fallo Signor arbitro Bravissimo Devono fare un corso Accelerato di arbitraggio In Giappone Sono proprio No indietro Sì ma Mi sta falciando Uno dietro Un altro Cazzo Eh sì Eh sì Ludica Sinceramente Non è che mi piaccia Così tanto Io metterei 3 sviluppo Va bene così Ludica Vatti a fare un po' Di conchia Minchia Cante a palle Anche Rummenig Ma guarda che era fallo Ma dai Ma non è neanche fischiato Il fallo Bravissimo Buttavia Bravissimo Buttavia Lui 99 Oh e basta Così Haaland punta Ma che è quello di prima Ma che è quello di prima Questo è quello di prima Haaland punta centrale Neymar E Messi Ma corri Santa Madonna Non correte una cappella Fallo Il mio fallo Fallo di Alaba Perché non lo so Prova Che si fa Faglio Ma Ti va a sbagliare No no L'ha messa alta Fuori gioco Niente Mette in suspense Fino alla fine Dai fargli fare una cappella Che Fagli sbagliare qualcosa Che vinca Che cazzo Fagli sbagliare qualcosa Santo Dio Lui gioca contropiede A Cudureni Cioè Non sbagliare qualcosa Era vero Jerry Guardian Jerry 04 Se vabbè Magari se ti muovi Che un po' prima Mentre se palleggio Questo è stato visto Dai Dai Non è possibile Sti ritardi In un passaggio Un passaggio Io ho premuto X Me la devi fare Dai Se vanno Vada un colpo De testa Che ha fatto Un passaggio Dai Quello ha preso Un gol Mi pare Hypnos Ha preso Un gol Che Dai Guarda 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 Come aggredisce Neymar Che poi sbaglia Neymar Ha sbagliato Un passaggio Elementare Oh Niente Oh Non è fa segnare Cazzo La promozione No O segno Sul calcio D'angolo Me la regala Oh Ciao Cioè ho pareggiato Non c'è verso Goal Messi Stop di sinistra Se la porta sul destro E metta l'angolino Dai Messi E se ti insulto Tuggioli E basta Questo Alan Nero Nero Parigiato Niente Non sono Mi Non sono Mi Capata Non ce l'ho Fatta Fatta 1-1 Infatti Era troppo Strano Ma vai a fare In culo Ma che cazzo Qui Palla Alan Palla dietro E che cosa 11 Ha fatto 2-2 Ha fatto 2-2 Che ha fatto 152 passaggi Ho fatto Mamma mia Cantè Quanto Comigliarmi Lasciamo Perdere Ho sbagliato Lasciamo stare Ti pareva Che non me la faceva Vincere Eh no Era vinta Vinta Sono a 11 punti Mi manca la vittoria Odo pareggi No Dai però Eh Questa Più culo Goal Ecco qua Ah guardate Oh ma è ritardo Assurdo Va bene Dai Fagliela pareggiare Dai Abbiamo capito Dai Però Non mi ha fatto Vini Iscrivo Sei fortissimo Cioè io Premo Per spazzare Quadrato X Non me ne fa Spazzare Vabbè Non mi ha fatto Vincere Che fastidio Eh di nuovo Palla Dalland Eh di nuovo No ma c'è Proprio ritardo Ritardo assurdo Se vabbè Incredibile Che ne ho vinto Pensavo che mi Fassesse vincere Che bello Eh Ne ha capo E o me la da Favore Ne ha Ma no Esci Porca Puttana Neanche Lo script A favore Per farmi passare La quarta Di Sbora Con la costa Inter Che sborgono Ti cojone Costa Inter Niente Tutto intercettano Tutto intercettano Pure la Madonna Te vedrà Che la perdo Mi cada tutti Quanti Mars Guarda Ma quella E fallo Ammoniscilo Ammonisci Così impara A non fare Fallo Madonna Come press Rui E' un gioco Mamma mia Fallo Alla fleccia Normale Allora Mi spallo Come faccio Vesa Allora Aspetta Facciamo così Lascio No Ma va Messi però Tirà giro Questo Chesney Importa Chesney Ma Non mi cambi Cioè Mi cada Tutta Difesa So Fallo Fallo E' su Messi Uu Fallo Lui ha un'ana Matteo Matteo Si Non fischia Niente Ragazzi E basta Con stilanci Minchia Dalland Minchia Questo Mezzo Sono Escolto Questa Sia volta Buona Che Mi asfalto Dovevo Vincere La partita Prima Ma che Sborda La palla Non è Come Cazzo Pessa Madonna Mia E' un gioco Sempre che Adesso Mi fa fare Tre pareggi Di filo Anche qua Per passare Ma guardate Hakimi Vabbè Hakimi E' bello Noi Noi Non è L'incoglioni Io Cavani Abbastanza No Goal Rubenig 2-0 Sul rimpallo A favore E che Cazzo Ogni tanto Me l'idea Rimpalli Pure a me No Ho sbagliato Dai Lancio Lungo Non lo fa Adesso Lancio Lungo Dai Abbiamo capito Come che giochi Dai Sulla fascia Vai Adesso Sulla fascia Mamma mia Che noia Che siede Tutti Sulla fascia Niente Guardate che ritardo Per passare Una palla Lui mi fa Lo scavetto E i miei Vanno a vuoto Vabbè Dai Dai Fascia Cross C'è Alan E tanto Le prende Tutte No Poi lo metto Io Non ne prende Manco mezza Ma Per favore Ma Siete delle Foto Guarda i falli Che fa Ma massacrato Ho messo Di nuovo Cross I miei I miei Vanno a vuoto Dai cross Vai Dai che te lo fa fare Guarda Te lo fa fare Dai Te lo fa fare Dai Ho sbagliato Di brutto Guarda il fallo Guarda il fallo Sto figlio Sto schifoso No ma gli scrivo A fine partita Sei fortissimo Quando i falli Non li fisca Intanto sto perdendo 2 a 0 Hai vai Ma no Ma no Santa Madonna Te lo ti dai coglioni Ormai Sembra un campo di guerra Non un gioco di calcio Niente Dai 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 Te la gira Ma no Ma 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 Siete Incoglioniti Te lo ti dai coglioni Ma La Che Lava E segna 3 a 0 Vai Impara a giocare Coglione Impara a giocare Eh che cavolo Tutto falli E niente Guarda Vai Fai se lancio Lunga Lunga Palla Dalland Vai Se è più sgamato Veramente Denamante Se è più sgamato No dai Ma che cazzo Se è passato È quello Vai 1 2 Vai Unita Ciclata Alta Ovecchiere Questo Di testa Scusa Altro fallo Sommessi Complimenti Konami Complimenti Falli giocare Tranquillo Io non dico Dei fischiare Ogni Che vuole fare No look Io noto Io noto Del lago C'è Del lago Oggi Non Nel gioco Non è fluido Guarda Che cazzo Che lavoro Passate E anche adesso Dai 3 a 0 E a casa Dai Quinta Dai Non voglio perdere Altri tempo Dai Quanto punti punti servono per arrivare il terzo Tanti 16 E con questa Sono qui High cross Eccolo qua Eh mannaggia Alland Dove cazzo da messa Peccato Oh ma mai mai che entra la palla Però Mamma mia Come giocano E come giocano Ah peccato Peccato E come Tira Minchia Non entra Ma il bello Che con me Non quinta Ma nessuno 90 minuti Giovano Mamma mia E nemmeno Sul 7 a 0 Quintano Che noia Ragazzi Ma quinta alberto ma è poi la roma che culo cazzo carriera di alberto cazzo di palla non so no no sbagliato tasto ricazzo tirato bravo delitto così si fa levati alland elevati non è falla ora la fischia ma è l'ascolo ma non coni un cazzo da santo dio jerry jerry 04 dai quinta se devi quittare levati dalle palle ma perché non tagli santa pazienza è giusto ragazze siamo un pelo scoperti e vai vai occhio che si consuma le r1 a fuori di corre occhio vai grosso sulla fascia dai vai va bene ma se fanno levati dalle palle e se è scarso ma vale ora ti faccio vedere io come ti salto finito da 0 da 9 a me tutti ma no tutti i pareggi per passare alla che stima fa far tutti i pareggi per passare divisione se vola da quei cani dice morti mi girano i coglioni e girano i coglioni ma mi fammi perdere appunto a perdere a volentieri basta che mi cavi via sta sta agonia che non riesco a fare niente in e io nel mio avversario che cazzo 225 2 e 2 partì assa mai vista vediamo che è perfetto lo mettiamo vediamo ora questo no ma questo gioca con tutti dice gioca con cinque tre difensori centrali do terci e questo se tutti se c'è con do punta e basta se c'è con questo ho voglia di segnare con questo gioca troppo stretto questo noi giochiamo così così non era malvagio se no a mezza melma centrocampo che sparo gioca con cinque difensori che a matteos davanti quasi impossibile segnare con questo ho già visto quasi impossibile segnare come faccio a fare a far allegare il gioco a questo minchia guarda no laghi perché devi lagare perché sei così stronzo che laghi ora che hai lagato e mi hai portato via il pallone non ha fatto il passaggio pezzo di cacca che non sei altro ma perché tu ti laga su sto sogo ora chi sei questo che corre come un tempo a farlo ma come si può fare 90 minuti di farlo ogni ogni contrasto fa mamma mia non è giusto però dai questo caso di guerra non è più un gioco di calcio è un campo di guerra c'è questo garcia berkamp garcia berkamp perché se che snyder ma anche a st altro dell'inter scusa ma liga tutti quei acchi che ha fatto dell'interno per curiosità già fatti per vedere c'è questo gas no questi liga tutti i tre liga aveva liga gattuta l'inter questo gattuta ah che ha il pack dell'inter più giocatori dell'inter cioè questo sei completamente interista eh ma voglia c'è ma quanti soldi dove ho speso per aver trovato tutti e tre liga le icone la liga e pc dell'inter una vita minchia non le fa via che questo vincere da ca con questo non vincere mai con la mia squadretta la lancio mamma mia ma il bappello di palla anima e ma foro dai non vedete la città perchè è troppo lento passato c'è fermato a quinta se devi quittare ma che palle che siete uuuh no ma va troppo piano gioco che cazzo di fermi o la buttata fuori ma perchè l'ha buttata fuori fai è arrivato il gollonzo è arrivato il gollonzo finalmente ho trovato il buco per segnare cazzo che è tutto in difesa adesso è tutto sta cosa che ho messo qua se poi che spegne la play è andata via di te non ha cominciato ad andare a casa ha abbandonato la partita ok vabbè no ma dai ho che non cominci con i falli non ha fischiato un fallo che sparo sono andato in vantaggio gli ha dato già calcio da punizione dal limite ma vai a fare in culo va sono a 15 da 15 su 16 per la promozione mancano tre partire ci riuscirò si magari se la buttate via ma guarda che non la butta via no in mezzo buono dai se vabbè va bene ma com'è che ha fischiato fallo ma per lui gli ha dato fallo ma come cazzo è possibile che ho fatto fallo io ma vai a fare in culo io ho fatto fallo ma vai a cagare dai aspetta devo fare qualcosa devo vedere un attimo la roba era giusto ma il mio si è fermato guarda che visca non è come quello guarda guarda visca guarda visca ma che cazzo la fischiato fanno di nuovo ma mi cambia Munio Vizca ma vai a cagare aspetta devo fare qualcosa devo vedere un attimo la roba devo vedere un attimo che cosa ho di difensiva eh si gioco così e cambio Vizca quindi cambio Vizca che si sta Munio perché intanto ho visto che non me lo fa più correre mi metto lui qua esatto e gioco con la difensiva la squadra deve essere sempre a prendere vediamo ah vi faccio l'ultimo vediamo se riusciamo a prendere la promozione comunque già ad oggi ma già la quinta è difficilotta ma la quarta già è tossica perché trovi quelli che hanno in seconda divisione anche in prima no no Davi si vabbè quello cavale non ne prende una brutto brutto sto gioco brutto ma ancora falla fischia ma non lo avevamo unito di nuovo no mi hai spulso Mekini guarda che gioco di merda ma se non ho fatto niente pensare che mi hai spulso Mekini paolo 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 no no me l'hai spulso sì ma è una roba incredibile ma vada volta che non è sono toccato dai ma tre avversari tre avversari col Milan è che palle ho cambiato ogni tanto io per questo non gioco con la maglia del Milan tutti ce l'hanno madonna no mo intero milano troppo sono scontati sono delle fotocopie allora Rudiger no che cazzo sta fai l'avevo l'avevo fatto giusto a me piace più il signorino qua a Kims Rudiger non mi è un entusiasmo guarda che roba santa pazienza mamma mia che c'è troppo quello difensivo sono anche sbordi sono tutti in difesa dai dai no no bravissimi ma no ma non è fallo ma che cazzo guarda farlo pareggiare per forza minchia ma sempre fallo gli da ma sempre più vicino che sparo sei a sto punto te li ha ratti tutti i calcio i calci di punizione dal limite per farti segnare fantasia che cazzo tirà su Marte questo cazzo tirà su Marte non ci credo dove cazzo andate che state correndo in attacco coglioni e sono corsi tutti in attacco vado fino all'1-0 questi corri in attacco ma dove cazzo andate che cazzo di ritorni che ci sono dove cazzo andate qua che vogliamo difendere l'1-1 no però non ho colpo di testa così di merda dai cavani però lo metto io fa cagare proprio metti qua dai vai 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 che ti ho visto vai ma vai santo Dio bravissimo tiena adesso dai vai 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 dentro vai dentro no dai ma do cante non puoi no chi è ma malinoski di merda ma malinoski anche da cambiare comunque sarà morto ma malinoski di merda te lo sai e dai a dove lentezza però sto gioco oggi ma che è bravo cansello dai che ti ho visto che sei andato oh no ho visto questi falli ho visto anche lui che era andato no no hai messi prendita no va dietro al portiere bravissimo dai che manca poco che sofferenza cazzo per passare sta cazzo che quasi quasi sbagliavo termino dagli all'inmezzo là lo vuoi fare Paolo dagli allunga là lo vuoi fare Paolo ciao domani guarda come cazzo scivola lui oh è stagal ma è un gioco oh pallo arbitro arbitro fring pong dai basta oh no mi hai fatto prendere il pedalo 89esimo ma vai a cagare ma la tre pareggi mi fa fare ma che rotura dei coglioni cioè mi fa per farmi passare la divisione mi fa fare tre pareggi ma vai a cagare ma che cazzo guarda che ha fatto apposta che schifo ma hai fatto apposta cazzo l'ha fatto pareggiare al novantesimo santo dio al novantesimo l'ha fatto pareggiare cazzo stai ma vai a cagare ma vai a cagare niente tra pareggi per passare con la difesa con rudy che è partito dalla difesa è rotta il cazzo con queste skill di marda è rotta il cazzo con queste skill finta quadrato x tutti così ma è fifo o best o è football vai coglione vai no e vai rumenig guardate ci proviamo tutti in attacco tutto falle sto coglione faccio dare io è certo a lui glielo fischi il fallo eh sei una marda ammonito primo lui mi sta bombardando le scivolate eh io un fallo ammonito va bene bravo fenomeno sei vai vai la vati dalle palle si 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 dai ma no ma che cazzo fischi fuorigioco porca la Eva ma va è vero era fuorigioco ma va in culo va cazzo cazzo potevo segnare qua ma che cazzo stiamo parlando Renato Sanz adesso c'è polpelo fallo ah fallo per me niente non fischi a mezzo fallo non mi fischi a mezzo fallo io non ci credo ragazzi comunque è un gioco veramente assurdo cioè mi fa fare un altro ma non mi fischi a mezzo fallo la promozione divisione 4 in tre pareggi tre pareggi mi mancava da fare tre punti mi fa fare tre pareggi aspetta che forse questo forse 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 se ha bloccato forse ho vinto per disconnessione dell'avversario ma magari forse si c'è la E che gira dai te prego non ho voglia di giocare un'altra partita dimmi che ha quitato perché si è nervosita oh ma come fai a recuperarmi i rumenichi dai ma dai piccio dai finiamole parte dal centrocampo dimmi che gli è caduta la partita per l'ag guarda che cazzo mi fa soffrire la Konami che sbarcia la E che gira aspetta Chris dai due ore dai ha quitato o no niente sì questo sarebbe ha vinto perché lui ha quitato e la Cia e Burnia con la sua squadra con Cavana ma che cazzo di avversario madonna mia che fastidio raggiunge la promozione attenzione raggiunge la promozione la Cia e Burnia ricordiamo la squadra della Cia e Burnia andiamo a far vedere quali po' po' di giocatori vanno in divisione 4 attenzione vabbè a parte che li ho livellati e comunque non è che sia una squadra è nato San Francesco che recupera vabbè dai ragazzi ma io sto vedendo cose ecco di qua ecco di qua ragazzi i fenomeni della Cia e Burnia sono stati questi ma in posta oh 0 0 ti rimporta 0 ti ritotali 0 tutte e due ma di che stiamo parlando comunque la chiave di svolta di questa squadra è stato mettere Robert da un terzino sinistra vedi perché io poi mi incazzo dai ho tanta stile di gioco a 4 scappati di casa dai eccoli qua eccoli qua che va in divisione 4 Van Vissacca Varane Gomez Robertson Maignan Gallagher Rice Malinowski Richarlison Rashford e Roberto Firmino Panchina attenzione Alaba Spiliquetta Kantè Mekinni Diaz Visca e Cavani con questa squadra la Cia e Burnia torna in divisione 4 grande grande saltiamo oh oh rigore no vabbè non mi ha dato il rigore no 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 questa è l'ingiustizia ragazzi mi dispiace e poi vabbè vi saluto ragazzi mi dispiace mi dispiace grazie a tutti